io non sono bravo come lui quindi perdonatemi comunque devo introdurlo allora mi insegna l'italiano e io gli insegno l'angelo lo sai che io sono male se salgo sul parco? ok 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 è perfetto è perfetto è perfetto è perfetto io non sono bravo come lui quindi perdonatemi comunque devo introdurlo allora ok ok è perfetto è perfetto Are you ready? Are you ready?